Questa sera Basseria Iece ospiterà il professore Gianluigi Vezzoli, che illustrerà i paesaggi, le tradizioni e le arti dell'India del Sud, conosciuti attraverso i suoi lunghi viaggi in questi territori. Professore, un secondo appuntamento dopo quello della scorsa settimana. Ce ne parli? Dunque, praticamente è un viaggio che facciamo attraverso l'India, la zona del Sud, attraverso le tradizioni, attraverso il costume, attraverso un po' di arti e praticamente le abitudini che hanno queste popolazioni. Io vado in India da sette anni, mi fermo proprio tutto inverno, io sono un insegnante di arte in pensione, appassionato del rupestre, vengo in Puglia a studiare il rupestre. Ho già fatto l'incontro passato, facendo un rapporto tra i templi buddhisti che sono scavati nella roccia in India e invece le vostre chiese rupestri, i vostri insediamenti rupestri che sono scavati nella Calcarenite. Stasera invece la tradizione indiana e poi faremo la settimana prossima la storia del tempio indiano, l'evoluzione del tempio indiano che è molto interessante, ricco di scultura, eccetera. Poi, se posso aggiungere, faremo a Massafra, vicino a Massafra, il giorno 22, che è un sabato, un incontro di tutti gli appassionati del rupestre, perché secondo noi Matera adesso ci sta lavorando molto, ma la Puglia purtroppo se ne dimentica eccessivamente. E io vorrei creare un polo di interesse perché è Massafra. Perché a Massafra c'è un centro studi sul rupestre dell'area mediterranea che già nel 2010 fece un convegno, per cui vorremmo continuare questa tradizione di studio e di approfondimento. Questa sera in particolare, quali saranno i temi trattati? I temi, allora, io parto dalla natura, quindi farò vedere un po' gli ambienti diversi che caratterizzano il sud, dal mare alle colline, agli aspetti rocciosi. Poi la natura, quindi questi alberi meravigliosi che ci sono, ci sono dei bagnani che sono lunghi, alti 30 metri, e poi un po' gli animali. Purtroppo dovrò sfatare alcuni luoghi comuni, perché ormai di selvaggio non c'è più niente, difficilmente si vedono gli elefanti, e addirittura le tigre e i leoni, praticamente non esistono più nel sud dell'India. Poi invece parlerò delle persone, di questi bambini, farò vedere praticamente tutte le fotografie che io faccio. Bambini meravigliosi, che sono mezzi nudi, ma molto più felici dei nostri capricciosetti. E poi dopo le tradizioni, quindi le donne che purtroppo svolgono ancora dei ruoli, diciamo, molto sottomessi, e soprattutto anche molto sfruttate, soprattutto quelle delle caste basse. In India c'è la Repubblica, come in Italia, più o meno dal 1948, sono state abolite le caste, però di fatto rimangono nella tradizione popolare. Per cui le caste più basse viene assolutamente sfruttata, pagata pochissimo, e le donne devono fare lavori, ad esempio, portare quelli che noi diremmo i secchi di Malta, nei cantieri. E poi dopo ci sono gli anziani, ci sono gli uomini, quindi farò vedere le attività, i mestieri, ecco, c'è un po' di tutto. Sabato 15 luglio, invece, si potrà passeggiare e scoprire i tesori della Masseria Iece e del territorio murgiano attraverso una passeggiata di 6 chilometri. Negli studi di Teleappula, Francesco Calderoni, fondatori di Camine e Gravine. Come avete organizzato questo percorso? Come è organizzata la passeggiata? Sì, grazie per questa opportunità, quindi ringraziando Teleappula e i telespettatori che ci seguono. Questo percorso di sabato 16 luglio è un percorso di 6 chilometri, abbastanza facile e praticabile per tutti. E si va alla scoperta della Masseria Iece, questa masseria del comune di Altamura, e soprattutto dei dintorni della Masseria Iece. Da quasi due anni, grazie al direttore artistico della Masseria, nasce questa iniziativa che si chiama Park Park. In quanto nel circondario di Masseria Iece ci sono una molteplicità di masserie private. Queste masserie sono detentori di zone archeologiche, di chiese e di grotte rupestri, di un alto valore. Pertanto, sabato 16 luglio, Altramonto, c'è questo percorso di 6 chilometri e si andrà alla scoperta di questi luoghi. Ringraziando Donato, Emar, laborante, in cui farà da guida col suo modo di parlare e di interpretare alla sua maniera questi luoghi. Dopo questa uscita, chi vorrà potrà rimanere con una cena tipica all'interno della Masseria e, per chi è già in certo modo predisposto, potrà rimanere a far campeggio sempre in Masseria. Chi vuole partecipare, come può contattarvi? Allora, sulla pagina Facebook, per chi ha la possibilità online, può trovare tutte le informazioni, sia dall'evento stesso, ma anche il recapito telefonico. Chi invece, purtroppo, non ha questa possibilità, quindi seguirà Teleappula, verrà conoscenza tramite Teleappula, può contattarmi, o Donato, per chi conosce Donato, oppure può contattare me al 380 10 44 016. L'appuntamento è domenica 16, sempre presso Masseria Iece e con suoni della Morgia nel parco. Qui con noi, Donato, lavorante. Donato, di cosa si tratta? Dobbiamo ringraziare sicuramente la direzione artistica di Guaragnaone, quindi nella persona di Luigi Bolognese, che quest'anno si è ricordato finalmente che c'è una terra di confine importante, come la Masseria Iece, che pur non facendo parte del Parco Nazionale dell'Alta Morgia, con la sua squisita sensibilità, ha coinvolto questo luogo importantissimo. E quindi domenica pomeriggio ci incontreremo verso le 15.30 per poi partire con le guide escursionistiche che il Parco Nazionale dell'Alta Morgia mette a nostra disposizione, per un percorso di circunnavigazione intorno alla Masseria, proprio per conoscere. Per tutti coloro che vogliono partecipare possono iscriversi all'organizzazione del Parco stesso. Poi alle 19.30 ci sarà Ettore Castagna che presenterà un suo libro, mentre alle 21.00 il gruppo Terre decanterà un grande poeta sudamericano come Paolo Neruta.